Prevenire gli assembramenti sulle spiagge libere e migliorare la gestione degli spazi pubblici sul lungomare, obiettivo dell'app Quanti Siamo, lanciata dal Comune di Termoli, un servizio gratuito e innovativo, disponibile nei vari punti attrezzati della spiaggia, sia dalla parte del castello, su tutto il lungomare, che nella zona di Rio Vivo. L'idea dell'applicazione nasce in piena emergenza Covid per il monitoraggio dell'affluenza degli utenti nelle spiagge libere termolesi. Questo è l'obiettivo che c'eravamo prefissi e credo che con questa applicazione l'abbiamo raggiunto. Questo ci permetterà quindi, naturalmente col contributo degli utenti che dovranno utilizzare l'applicazione, ci permetterà di monitorare quella che è l'affluenza sulle spiagge libere termolesi. L'abbiamo ristretta, naturalmente, solo ed esclusivamente a quelle che abbiamo attrezzato con i paletti per la localizzazione della posizione dell'ombrellone, quindi solo ed esclusivamente su 10 spiagge libere. L'iniziativa, patrocinata dalla Rieco, società che gestisce la raccolta differenziata in città, presente con Angelo Di Campi e Daniele Di Tonno, si può già scaricare e utilizzare su tutti i dispositivi Apple e Android, ha collaborato Daniele Bucci dello staff del Comune. L'obiettivo dell'app è quello di evitare il più possibile assembramenti sopra le spiagge. Cosa bisogna fare per evitare gli assembramenti? Le persone sono invitate, nel momento in cui arrivano sulle spiagge del litorale di Termoli, a scaricare l'applicazione, a segnare quante persone sono e quante ombrelloni hanno con sé. Al resto pensa automaticamente l'app. Le persone vedranno colorate le postazioni della spiaggia del litorale di Termoli con dei bollini colorati, rossi, gialli o verdi, in base alla presenza delle persone su quel tratto di spiaggia. Quindi evitare bollini rossi e dirigersi il più possibile verso i bollini verdi. Un progetto sperimentale che si apre anche a altre iniziative? Il progetto è appena partito grazie al contributo dello sponsor e grazie alla collaborazione forte che c'è stata con il Comune di Termoli. Ovviamente sì, ora come terminerà l'esperienza emergenziale del Covid dedicheremo le nostre forze per continuare a lavorare con le attività del posto e contribuire così al rilancio dell'economia locale. Grazie. Grazie.